Buongiorno a tutti, sono Sandro Di Addezio e sono presidente regionale dell'UMPLI Abruzzo e componente di giunta nazionale. A livello nazionale in giunta mi occupo di sviluppo APS, di cammini, staffetta da Francesco a Francesco, protezione civile, SIAE e assicurazioni. La presenza oggi qui in Calabria è importantissima per la giunta nazionale perché è un momento di confronto con le prologo calabresi, quindi sicuramente un momento di crescita per tutto il mondo UMPLI. Da parte nostra a livello nazionale lavoriamo costantemente per raggiungere con le nostre nuove proposte tutte le prologo d'Italia, quindi per essere al loro fianco, per essere vicine in questo momento di cambiamento in cui diventa fondamentale il ruolo delle prologo nella promozione dei territori. Grazie a tutti.